I pendolari a retini sono allarmati dalla notizia che Trenitalia voglia, dal prossimo 15 gennaio, tagliare almeno sette coppie di intersiti in tutta Italia. In Toscana questa modifica porterebbe alla soppressione di quattro convogli, ovvero il 583, 596, 590 e 597, gli ultimi due molto utilizzati non solo dai pendolari che si spostano tra Prato, Firenze, Arezzo, Teronto e Lechiusi, ma anche da tanti viaggiatori occasionali che preferiscono il treno all'autovettura per i lunghi spostamenti. La ragione ufficiale di questo taglio è meramente economica. Secondo Trenitalia questi intersiti non sono redditizi e quindi o lo Stato si assume il costo di questi treni, oppure, se rimangono nel mercato libero, verranno cancellati per far viaggiare al loro posto altri treni a alta velocità garantendo maggiori guadagni per l'azienda. Questa logica non trova d'accordo i pendolari per vari motivi, primo tra i quali si legge in una nota l'idea di penalizzare i pendolari per assicurare utili a Trenitalia e soprattutto per il fatto che ragionando solo con il parametro economico in Italia dovrebbe esistere solo l'alta velocità. Il Comitato dei Pendolari Aretini condivide sia l'intervento delle rappresentanze sindacali che si sono opposti a questo taglio, sia l'intervento dell'assessore regionale Ceccarelli e si vuole appellare a tutti i sindaci dei territori coinvolti, primo tra tutti quello di Arezzo e i parlamentari toscani, per sollecitare il governo affinché tutti gli intersiti siano mantenuti nel nuovo orario e per affermare il concetto che il trasporto ferroviario deve essere pensato e organizzato innanzitutto come un servizio ai cittadini e non come un business a scapito degli utenti. Il deputato Aretino Marco Donati ha presentato insieme al collega Luigi Dallaio un'interrogazione urgente ai ministri dell'economia e dei trasporti per chiedere che venga garantito il servizio dei treni intersiti. L'interrogazione è sottoscritta da 32 deputati, il parlamentare Aretino ha evidenziato anche i numerosi disservizi cui sono sottoposti giornalmente i passeggeri che viaggiano sui treni intersiti. Lunghi tempi di percorrenza, mancanza di puntualità, soppressione senza preavviso delle corse, carenza di informazione, guasti tecnici, carrozze non adeguate e poco pulite, sovraffollamento dei convogli.